Questo mondo non ti renderà cattivo, ma non ti farà neppure cambiare. Ora, questo mondo non mi renderà cattivo è l'ultima serie Netflix di Zero Calcare. L'ho vista, è bellissima e quindi non ti spoilerò nulla, non ci sono spoiler. C'è un commento generale, una lezione generale che io personalmente trago da questa serie, che ti invito a guardare perché è estremamente istruttiva da tanti punti di vista, al di là dei contenuti, io trago una lezione sul cambiamento e sulla difficoltà del cambiamento. Tutti i personaggi di questa serie alla fine sono vittime del contesto, delle situazioni che vivono, delle loro storie personali e ritornano sempre lì, nei soliti luoghi, nei soliti posti, nelle solite famiglie, nelle solite case, nei soliti quartieri. La difficoltà del cambiamento molto spesso è proprio questa. Ci sono alcune parole che spesso le persone dicono, come per esempio ognuno ha i suoi tempi, ed è vero, è drammaticamente vero, ognuno ha i suoi tempi. Quante volte trovi persone che affrontano le stesse sfide con tempi diversi, e alle volte una è più veloce, alle volte l'altro. A onore del vero, mediamente, chi è un po' più veloce tende ad esserlo sempre. Però su alcune sfide può essere più lento di quello lento, perché dipende anche dalle situazioni in cui ti trovi. Quindi sì, ognuno ha i suoi tempi. E poi il cambiamento dipende anche dal contesto, dalle situazioni che hai intorno. Tutti i personaggi della serie hanno un contesto e delle situazioni intorno. Ecco, effettivamente, effettivamente, si concentrano le persone su che cosa? Sull'esterno, sulla situazione esterna. Ora non sto più parlando della serie di Netflix, sto parlando di quello che mi raccontano i miei pazienti. Molte persone si concentrano proprio sull'aspetto esteriore. E mia madre, mio padre, ha fatto un piccolo passo, un piccolo cambiamento, stavolta, ok? Ecco, nella serie forse c'è più rassegnazione. Nella vita, che mi raccontano i miei pazienti, c'è più questa attenzione speranzosa nei confronti dell'altro, che prima o poi farà un piccolo passo per cambiare. Magari lavori con tuo padre, sei incasinato in un lavoro tremendo, che non ti piace, che ti fa soffrire, in un'insoddisfazione costante. Tuo padre ti tratta malissimo, ma magari farà quel piccolo passo per cui alla fine succederà questo. Oggi è andato diversamente, il mio capo mi ha trattato diversamente, il mio collega è stato più gentile. Oggi c'è stata addirittura una persona che mi ha offerto il caffè. Cioè, ti concentri su tutte quelle piccole cose che allungano la linea del tempo del cambiamento. E tu poi un giorno ti guardi indietro e ti accorgi di che cosa? Che c'era da tirare i dadi. Quella è una bellissima immagine che dà zero calcare nella serie. Ecco, c'erano da tirare i dadi. E tu non li hai visti i dadi. Magari usciva un 1 e ti saresti mosso di una casella soltanto. Magari un 6 e ti muovevi di più. Ma non hai nemmeno tirato i dadi. Perché? Perché tirare i dadi significa rischiare, che cosa? Rischiare di soffrire, che cosa? Quale sofferenza? Soffrire il distacco da un genitore al quale sei legato, perché è tuo padre, è tua madre. Cosa dovresti fare? Ecco, ma staccarti da quella persona, che pure magari oggi è uno stronzo, però staccarti da quella persona ti genera sofferenza, un senso di inquietudine che non vuoi vivere, ma abbandonare questo lavoro che quando ti alzi la mattina hai voglia di vomitare? No, non lo fai. Non vuoi vivere quel senso di inquietudine. Quindi non ti ridavi. Non giochi, non ti giochi il rischio. E poi ti guardi indietro, sono passati anni e non ti sei giocato mai la partita. Sei rimasto al punto di partenza. Sempre a guardare le situazioni esterne, prima o poi cambierà, prima o poi succederà, succederà sempre a guardare i piccoli miglioramenti di tutte le persone che sono intorno a te, perché le persone cambiano e fanno delle piccole trasformazioni, ma quella piccola trasformazione di tuo padre, del tuo collega, che impatto ha realmente nella tua vita? Magari può essere il riflesso di un'enorme trasformazione personale per quella persona, ma l'impatto che ha sulla tua vita sarà minimo, non potrà di certo lenire le ferite del passato, non potrà cambiare quello che è successo, motivo per cui, molto semplicemente, tu hai comunque bisogno di uno svincolo da quelle persone. E più ritardi questo svincolo, più lo temerai, perché tutto ciò che evitiamo, in qualche modo, è come una lente di ingrandimento sui nostri timori e le nostre paure, più lo eviti, più diventa gigante, più hai paura di affrontarlo, e non hai più paura di affrontare il tirare i dadi, diventa un aver paura di affrontare il concetto del tirare i dadi, che manco ti sembra giusto, più doverli tirare, perché a questo punto ho faticato così tanto che sarebbe giusto che uscisse un 3, un 4, senza nemmeno tirarli, il 3 garantito. Ecco, no, non è così che funziona, tu non potrai avere nessun punteggio se non tiri quei dadi, e tirare quei dadi vuol dire affrontare il timore del distacco, dello svincolo, della trasformazione, del cambiamento, quella paura che ad un certo punto ti fa tremare, perché è come se te cadessi nel vuoto, e magari dura un istante, arrivi subito su qualcosa, però per quell'istante, per non vivere quell'istante, tu non giochi al gioco della vita. Quindi, il segreto del cambiamento consiste nell'accettare che devi tirare i dadi, e quello è il segreto, a un certo punto devi tirare i dadi. Lasciami un commento, fammi sapere se ti è piaciuto il video, e se non ti è piaciuto il video, fammi sapere se ti è piaciuta la serie di Zero Calcare.